Sì, brevissimo. Il gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle si asterrà a questo ordine del giorno semplicemente per il fatto che questa maggioranza, ma soprattutto la società CEA, sta già lavorando ad un progetto di implementazione e razionalizzazione delle fontanelle pubbliche su tutto il territorio capitolino. Ovviamente, come sapete, stiamo ancora vivendo questo periodo di crisi, quindi non è facile la riapertura delle fontanelle nel brevissimo periodo, però questo è l'intento aziendale e dell'amministrazione di Roma. Grazie.